Vi ricordate che sono la fidanzata migliore del mondo, no? Ora renderò anche voi dei partner fantastici perché vi svelerò il miglior regalo che possiate fare a San Valentino San Valentino! Prendete la macchina a direzione Fontaneto d'Agonia, scegliete il tema che preferite e godetevi l'esperienza Stupenda! Ma che cuglia! C'è la vasca Con tutti gli specchi Ma raga! Ma è stupendo! Che cos'è? Come si apre? Così? No Ah forse no Eccolo! L'ho aperto? Ah è il bagno Boia! Che figata! Quanto a Valentino! E' appena cambiata con le loro ciabattine e il loro asciugamano pronti per la vasca da bagno Ma c'è appena suonato il campanello Andiamo a vedere chi sarà Ebbene sì, un buonissimo aperitivo di benvenuto con pizzette, formaggi, salumi e addirittura una bottiglia di prosecco Ognuna ha tema differente E dato l'interesse suscitato con il precedente video Ho chiesto di farmi sbirciare qualche altro tema Di nascosto solo per voi Più avanti in questo vlog Andiamo a fare questo spuntino Ma per ora ritorniamo al nostro tema fashion Nel frattempo che è un minuto Stiamo riempiendo la vasca E ovviamente nel caso in cui si avesse ancora fame In camera lasciano un QR code dal quale è possibile ordinare direttamente in camera la propria cena Ben arrivata pure la cena in camera Vi faccio vedere stupido che cosa abbiamo preso Per quanto riguarda la colazione abbiamo il breakfast room service Noi vediamo cosa farci portare, a che ora e poi lo attacchiamo fuori Buongiorno, appena scoperto la nuova parte di questa stanza Questa bellissima doccia Subito dopo aver fatto la nostra doccia è arrivata la colazione ordinata la sera prima Per la seconda notte abbiamo soggiornato su un'altra stanza Ma prima vi faccio vedere un piccolo tour degli altri temi dell'hotel Per la seconda notte abbiamo soggiornato su un'altra stanza Eh già, ne sono rimasta incantata anche io Ma ne manca ancora una Infatti la seconda notte abbiamo cambiato stanza Riuscite ad indovinare il tema? Direi che noi super contenti Qua vediamo, qua c'è la doccia Vediamola subito questa volta Wow, è gigante Guardate quanto è grande E dice pure lo specchio eh Eccoci qua, questa è la vasca per questa giornata E poi il nostro letto Oddio è bellissimo È stupendo And the toilet Wow, ma è bellissimo anche questa Sono innamorata di questo hotel Ciao